Conferma che c'erano così tante pressioni politiche durante... No, no, non parlo, ha parlato il mio avvocato, concordo con quello che ha detto lui e nella sintesi mi sembra tutto molto trasparente e il CDA ha provato tutto. Una domanda un po' più politica, quando succedevano queste cose, la firma del documento predatato, lo stralcio del verde, lei pensava di poter contare su una sorta di inerzia della procura o di sensibilità istituzionale come la chiamata Renzi? Tutto trasparente, ho sempre contatto sulla mia decisione, sul mio senso di responsabilità e sul sapermi prendere responsabilità anche per altre volte. Io ho subito questo attacco da Casa Pound che l'ha dato il falsario, questi attacchi rischiano di moltiplicarsi di qua in avanti nel corso del processo che probabilmente andrà ad affrontare? Io non è che sugli attacchi di Casa Pound non mi stabilizzano, anzi, da un certo punto di vista mi fa piacere il fatto che siano così aggressivamente contrari alla mia azione, si vede che la mia azione dà fastidio. Grazie, arrivederci.